il far west è servito non ci sono altri termini per descrivere quanto è accaduto ieri mattina in via riva nella frazione di montale quando una quindicina di immigrati sudamericani visibilmente ubriachi hanno circondato una volante della polizia di stato arrivando a malmenare gli agenti in pattuglia un fatto talmente grave inaudito e preoccupante che ha spinto il sindacato di polizia a prendere subito posizione a tutela dei colleghi e promuovendo una manifestazione nei prossimi giorni davanti al tribunale di piacenza per chiedere più severità per chi usa violenza contro le forze dell'ordine e per nuove leggi che tutelino il loro lavoro contiamo di sensibilizzare un po l'opinione pubblica vorremmo fare una manifestazione davanti al tribunale di piacenza in quanto quello secondo noi è il luogo adatto per chiedere nuove leggi nuove leggi che ci tutelino in questo paese ormai c'è il patteggiamento ci sono tante leggi che facilitano al nostro parere questi questi delinquenti ormai si sono si sentono autorizzati a poter menare le mani a uomini che indossano la divisa una divisa che rappresenta lo stato c'è da fare qualcosa la sicurezza non è solo controllo del territorio ma sono anche leggi adeguate c'è un'evoluzione della criminalità secondo noi bisogna rivedere tanti comportamenti e quindi mettere le mani a nuove riforme nuove riforme che ci dino serenità come moduli operativi cioè saper cosa fare è tutto qualche fare supportato dalla legge questi non pagano è ora che paghino democraticamente ma che ci sia veramente un prezzo da pagare a chi alza le mani agli uomini dello stato per il sindacato di polizia di piacenza è ora di alzare la voce è ora di arrabbiarsi è ora di dire che la sicurezza non è solo controllo del territorio ma che questo deve essere supportato con nuovi leggi che difendano i diritti umani delle donne e degli uomini in divisa non a caso il festival del diritto a piacenza appena concluso deve essere diritto anche per le forze dell'ordine da qui la richiesta di espulsioni nei confronti di chiusa violenza di punizioni vere e di condanne concrete si parla di diritti umanitarie la polizia di stato tutela questi diritti umanitarie ma in questi diritti umanitarie ci siamo anche noi che svolgiamo un lavoro molto delicato lo svolgiamo senza mezzi ma oltre ai mezzi materiali ci vogliono dei mezzi legislative quindi cercheremo con molta umiltà sollevare la questione